Ho nuove informazioni riguardo all'oro rubato. Alla mia carrozza! Andiamo. È davvero strano. La compagnia delle Indie che collabora con i Templari. A che scopo? Non se non lo sapremo mai. Il contabile ha detto che nascondono il carico d'oro che era stato rubato in India all'interno di una carrozza in un vecchio magazzino di Starry. Dobbiamo trovare la carrozza e poi rubarla. E voi invece? Beh, io resterò qui ad aiutarvi. Non sono il quarto miglior tiratore di Londra per nulla. Più veloce! Bisogna trompare con me. Forza! Ci siamo. L'oro deve trovarsi qui. Consegnatelo a me quando lo troverete. Intanto io vi guarderò le spalle. Fate attenzione. Rinunceranno facilmente a loro... Atenti! È un'intrusa! L'oro deve trovarsi qui. Sì, è un'intrusa! Un edificio vale l'alto. E ora non lavori più per Starry. Ah, certo. E' un'intrusa! Un'intrusa... Un'intrusa... Un'intrusa che si trasmò che stai colata. È un'intrusa che miada. Un'intrusa si trasmò. Grazie a tutti Eccola, l'oro deve essere dentro Devo portarla fuori da qui Non hanno abbastanza uomini raggiunto per mantenere l'uomo È un lavoro per mantenere buone le colonne Per questo hanno bisogno di uscire Fermatela Siamo organizzati Ero terribile E sarà il responsabile Ecco Devo tornare dal signor signor Bene I Templari non sono lontani Bisogna seminarli So come tenerli a bada Altezza Presto, su Devo levarmi lì di due Ero 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 Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Vi siete battuto davvero come un leone! Mi lusingate! È stato piuttosto esilarante, a essere onesti! Comunque, ho assoldato un capitano per riportare l'oro in India! Prendereste voi la cassa sul retro! Non la passerai liscia, canaglia! Vi sentite bene? Mi avete spaventato! Sto bene, grazie! Vi ringrazio per averli affrontati, sul serio! Con voi al mio fianco sarà uno scherzo rimandare questo oro nel posto a cui appartiene! Potete anche allontanarvi adesso, ma tornate quando sarà tutto pronto per terminare la nostra impresa! C'è ancora molto da fare!